Eccoci qui con Silvia Camporelli, una delle dieci finaliste del Talent Prize, che presenta il suo Dance Dance Dance. Ciao Silvia, ben arrivata. Ci vuoi parlare del tuo video? Sì, è un video del 2007, il 2007 è creato per il Museo Mardora a Vienna ed è nato veramente montando in piscina, vedendo una croce, la croce di segnalazione dei montatori e mi ha fatto pensare in un momento di ricerca sulla fede, non necessariamente religiosa, ma della fede in generale. Mi ha fatto pensare che poteva essere qualcosa di significativo e quindi ho deciso di trasformare questa esperienza in un atto artistico.